Siamo all'Acesa, che cosa è l'Acesa prima di tutto? Un'azienda agricola Io sono agricoltore, anche io faccio il conto di E' Stallenola, che produce questa azienda? Olio, olive, padella Tutto ciò che vediamo qua? E' un'azienda familiare o diciamo In quanti lavorano lì? In quanti di famiglia? In tre Si è riuscita a vendere questi prodotti Qualcosa? Ad esportarli, no? Fuori leno, ecco A Gaeta, Fornia, Latina, Roma Sì, ci sono anche dei ristoranti di Gaeta che soffruiscono dell'olio Questo è molto importante A parte che il nostro olio e le nostre olive sono le migliori del mondo No, sono le migliori del mondo Ci sono degli attori in America Che quando vanno nei ristoranti a Los Angeles Se non sono olive di Gaeta non mangiano Ve lo dico chiaro E vede che qua sono olive di Gaeta Diciamo di vero, di Gaeta Si chiamano di Gaeta perché noi le commersciavamo qua, no? E beh, è una bella esposizione Ci vuole un po' di fatica a raccogliere queste olive, però Con il freddo d'inverno le mani si ghiacciano Complimenti Grazie Io assaggio un'oliva Prego Grazie Grazie Grazie